Dopo Napoli-Real Madrid ci sono ancora polemiche. Una riguarda l'arbitraggio nell'azione che ha portato al terzo gol dei Blancos. Intanto la squadra ha ripreso la preparazione in vista del match di domenica sera contro la Fiorentina, che è a pari punti con gli azzurri. A difesa di Meret, i tifosi lo hanno criticato duramente per il terzo gol del Real Madrid. A scagionare però il numero uno sono stati i portieri del passato, come Nando Orsi e Gennaro Jezzo, fino alla leggenda Dino Zoff. Non solo polemiche, però anche tanta emozione per i neo-arrivati come Nathan, che ha commentato l'esordio in Champions. Una grande partita contro un avversario molto forte e un immenso spettacolo. Peccato che non sia arrivata la vittoria, ma abbiamo fatto di tutto per ottenere i tre punti, ha dichiarato l'ex Bragantino. Cosa si prova ad ascoltare l'urlo de Champions allo Stadio Maradona? Prima di mercoledì, ha aggiunto, lo avevo sentito soltanto alla PlayStation. Il Napoli ora punta a passare il turno al primo posto nel girone e il nostro obiettivo ha poi concluso. Mancano ancora quattro partite e la prossima sarà fuori casa contro l'Union Berlino. Abbiamo buone possibilità di andare avanti e superare questa fase come primi del nostro gruppo.